Scavolini Store Perugia si sviluppa su una superficie di 450 metri quadrati 14 cucine, 4 living e 4 bagni, tutti selezionati per voi dalla vasta gamma Scavolini Il nostro rapporto con Scavolini dura ormai da 25 anni Inauguriamo oggi qui a Perugia il nostro secondo store Scavolini Siamo pronti a guidarvi nella scelta del vostro prodotto Scavolini Vi aspettiamo! Scavolini Store Perugia Scavolini Store Perugia Scavolini Store Perugia Scavolini Store Perugia Grazie a tutti! Grazie a tutti